È in gravi condizioni, costantemente monitorata dai medici del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Piacenza, una giovane donna sotto i 40 anni colpita da meningite da pneumococco è stata ricoverata ieri notte. Si tratta di una forma non contagiosa, perciò familiari e amici non sono stati sottoposti a profilassi antibiotica. Le condizioni della paziente sono serie, fa sapere ASL tramite una nota, e i sanitari stanno monitorando la situazione. Il caso è stato segnalato al Dipartimento di Sanità Pubblica, così come è previsto dal Sistema di Sorveglianza Nazionale, prosegue la nota. Lo pneumococco è frequentemente presente nel cavo orale e da qui può raggiungere aree adiacenti e causare otite, mastoidite, sinusite e, nei casi di maggior severità, meningite e infezioni generalizzate, la sepsi. La paziente presentava seri fattori predisponenti verso una forma di infezione disseminata da pneumococco, che è inizialmente esordita come otite. Come è noto, prosegue ASL, si tratta di una delle forme più comuni di meningite, soprattutto negli adulti. Mentre la meningite da meningococco richiede l'avvio di una profilassi verso i contatti stretti, cioè le persone che hanno convissuto con la paziente, questo tipo di meningite non richiede invece alcuna profilassi, in quanto non è una forma contagiosa. La 38enne però si trova in condizioni gravi e la prognosi resta riservata. Grazie. Grazie.